Brescia, un po' meno da Cremonese, però una partita giocata a calcio, tranquilla, un punto pubblico. Bellissimo, una cornicea di pubblica straordinaria, da parte nostra vedere una curva tutta bianco-blu è stato qualcosa di straordinario, marito anche da Cremonese che ha spinto la propria squadra fino alla fine, è stata una partita aperta, finita 0-0 ma potevano esserci dei gol, le due squadre hanno provato fino all'ultimo secondo a superarsi, nonostante il caso, nonostante fosse la terza partita in sei giorni, per me le squadre hanno letto bene, complimenti anche ai nostri collaboratori, ai preparatori fisici perché avere questo tipo di condizione nel finale di campionato è molto importante e di consapevolezza sono contento perché per noi questo punto sancisce il nostro primo posto dal punto di vista matematico, ci tenevamo tanto e di consapevolezza abbiamo raggiunto anche questo obiettivo. Per il finale avete chiuso con il campo contemporaneamente le due casse primine, Viviani e Tonali, ovvero Tonali ha giocato solo un campo di partita però ha fatto di Viviani grande personalità, non un derby. Ha giocato una partita straordinaria, Mattia è uno di quei giocatori che mi ha dato più soddisfazione perché è cresciuto tantissimo dal punto di vista della personalità, dal punto di vista fisico, quando ha giocato la partita d'andata con la Cremonese, la prima che giocò al titolare con me, per 60 minuti fece una buona partita poi andò un pochino in difficoltà, quando invece l'ho rimesso dentro in questo scorgio finale di stagione ha dimostrato un grado di maturità e una crescita straordinaria, sono molto contento perché anche oggi ha giocato molto molto bene.